Essere o non essere? Shit! Questa è la domanda. Se sia più nobile sopportare le percosse e le ingiurie di una sorte atroce oppure prenderle armi e combattendo annientarli? Morire, dormire, nient'altro. E dire che col sonno mettiamo fine ai dolori del cuore e ai mille colpi che la natura della carne ha ereditato. È un epilogo da desiderarsi devotamente. Morire, dormire, dormire, forse sognare. Sognare! C'è l'ostacolo! Perché in quel sogno di morte il pensiero dei sogni che possano venire quando ci saremo staccati dal tumulto della vita che ci rende esitanti. Essere o non essere? Shit! Questo è il problema. Ecco nel borsone militare tengo praticamente per evitare di portarmelo in casa che sennò ho la moglie che stressa e non avendo il garage me lo tengo in macchina. Qua praticamente ho un grande cuscino che all'interno di questo cuscino c'è un altro sacco a pelo. Praticamente cuscino, una coperta e un altro sacco a pelo. Eccolo qua. Sacco a pelo, cuscino, sacco a pelo, sacco a pelo, sacco a pelo che volendo è anche un cuscino, degli altri piccoli cuscini, una coperta vintage che quella lì è veramente... Questa conviene sempre tenerla in macchina perché davvero è proprio... Io me la ricordo questa da... Nelle Simca... Che carriera! Nelle Simca... ovviamente si accende questa di luce ma quella la non si accende... Che carriera! che fantastica giornata! Ha piovuto! che per gran! Che bella! Eh! Oh, eh! Orecchiavi! Oh, c'è cosa c'è! Eh! Eh! E allora, ecco la banda, la banda su una rock. Salute! Devo preparare la macchina. La partenza per la Germania. Numero uno, Italia rinnovo patente, 1600 chilometri. Numero due, Hamburgo, 1200 chilometri. La Waz miracolata. Ma come si fa? La mia Waz non ha nulla. Io sono esente dai problemi. Il garage lo vede pochissimo. Ma che cazzo vuol dire lo vede pochissimo? Cioè un giorno sì, un giorno no. La mia Waz il garage lo vede pochissimo. Giorni alternati. Vanità, vanità, tutto è vanità. Quali utilità ricava l'uomo? Così rimane nice and beautiful. Così io ho la lucina qua. Lo vedo tutto intorno, è simpatico. Frozen. Il tarp va arrotolato. Hai capito? È importante. È arrivato il capo. Eccolo qui ho questo pezzo. Questo, guarda. A volte te lo trovi infilato nel polpaccio. Che fantastica giornata. Sussurri e sibili chiamano simili a segnili singhiozzi sottratti a stento senza senso. Auream quisquis mediocritatem dilegete tutus. Caret obsoleti sordibus tecti. Caret invidenda sobrius aula. Saevius venti agitatur incens pinos. Eccelsai graviore casu. Decidunt turres. Feriunque summos fulguramontes. Com'è? Feriunque summos fulguramontes. Perfini. 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 Perfini.